Amici crociati, ben ritrovati finalmente dopo un bel periodo di ferie a parlare del nostro Parma Calcio. Il Parma, mentre io ovviamente ero sotto l'ombrellone, non ha esitato fortunatamente a fare qualche acquisto importante e parleremo proprio in questo video di questi tre acquisti importanti che il Parma ha messo a segno durante queste due settimane. Parliamo subito di Partipilo, un giocatore, un esterno d'attacco della Serie B, molto in gamba, molto forte, che a me piace sinceramente. Quando lo abbiamo affrontato contro ci ha sempre fatto un po' penare e sono contento quindi di questo acquisto. Sono contento perché è il classico acquisto che avrei fatto anche io, cioè quel giocatore esperto di Serie B, non più giovanissimo, ma che vede nel Parma Calcio la sua meta, la meta probabilmente più importante della sua carriera e quindi darà sicuramente il 100% con la nostra maglia. Comunque me lo auguro, ecco, quindi sono molto contento dell'acquisto di Partipilo. Ce lo vedo anche già titolare esterno destro con magari un 4-3-3 con Benedicciac da una parte, Partipilo dall'altra. Vedremo, vedremo come metterà in campo i giocatori Pecchia, anche perché sugli esterni bisogna anche un attimino capire effettivamente quanti ancora devono essere acquistati. Appunto Zanimacchia sembra quasi essere ormai scomparso dai radar, essere rimasto a Cremona, almeno per il momento resta a Cremona. Poi vedremo se Pecchia insisterà nell'acquisto del suo ex giocatore. Mentre un altro acquisto, sempre esterno, d'attacco, che è arrivato, ma questo molto giovane, anche se con già esperienza in Italia, in Serie C, nel Vicenza, stiamo parlando di T.S. Bezic. Io ho soprannominato quando è arrivato The Summer is Bezic, con la classica canzone degli anni 90, perché è un giocatore che a Vicenza stanno, diciamo, lamentandosi della sua uscita e del suo arrivo a Parma. Ed è per questo motivo che quando un'altra squadra si lamenta dicendo no, abbiamo sbagliato avendolo al Parma, poi per una cifra così bassa era un giocatore interessante, eccetera, a me fa piacere perché non conoscendo il giocatore di 20 anni, tra l'altro, l'unico modo che ho per capire un attimino se è un giocatore in gamba o meno è quello di vedere il risponso dei tifosi avversari. I tifosi, in questo caso, stanno dicendo che il Parma ha fatto un affare, per cui sono contento del suo acquisto, sicuramente non sarà il titolare, almeno non all'inizio, a meno che non esploda e diventi il nuovo Quarashkelia, però sono contento perché è il classico giocatore, giovane, che il Parma acquista ogni anno, ma è un giovane che però ha già un'esperienza qui in Italia. Ha giocato in Vicenza, ha fatto anche i suoi gol, questi tiri a giro che ho visto negli highlights che si trovano su YouTube, molto interessanti. Sicuramente sarà un pochino acerbo, ma avrà modo di farci vedere qualcosina. E poi arriviamo alla ciliegina sulla torta, se così possiamo chiamarla, e cioè l'acquisto dell'attaccante, finalmente abbiamo preso un attaccante con i controcones, che è Antonio Ciolac. Si chiama Ciolac, visto che noi l'abbiamo già sopronominato Coca-Cola, perché per noi la pronuncia era Colac, però abbiamo già visto nel video e nella presentazione del Parma che si pronuncia Ciolac. Per lui in Italia non è il massimo come nome Ciolac, per cui noi forse probabilmente continueremo a chiamarlo Coca-Cola, che è meglio, almeno è più simpatica come cosa. È un attaccante comunque che arriva dai Glasgow Rangers in Scozia, ha segnato più di 14 reti l'anno scorso, ha fatto appunto il capocannoniere scozzese dei Rangers, ed è un giocatore internazionale, un giocatore che ha giocato in Champions League, ha segnato in Champions League l'anno scorso con i Rangers, e ha girato diciamo in lungo in largo in Europa, segnando comunque abbastanza gol. Ecco, non è un bomber di razza, però sappiamo che l'anno scorso ha giocato benissimo, ha fatto tanti gol. È un giocatore interessante perché è già esperto. Certo, non è il lapadula, non è il partipilo, non sono quei giocatori che adesso ti danno la certezza che in Serie B ti fanno tanti gol. È una scommessina, se così possiamo chiamarla. Sì, ma è una scommessina, che però mi sento di dire già teoricamente all'inizio del campionato. È un giocatore che comunque, secondo me, può fare bene. Ecco, non è ottimo, però è un buonissimo acquisto. Ed è un buonissimo acquisto che può trasformarsi tranquillamente in ottimo acquisto. Ecco, quindi io sono contento dell'acquisto di Ciolac, sinceramente. E ovvio, se mi avessero detto con una pistola puntata preferisci Pierpalo o Ciolac, ovvio che avrei detto subito Pierpalo. Ma perché? Lo conosciamo, che in Serie B ha già segnato, eccetera. Ciolac, non conoscendolo, avendo visto tanto i suoi numeri, avendo visto il fatto che comunque, ragazzi, ha giocato in Champions l'anno scorso, segnava, non stiamo prendendo un giocatore del Poggi Bonsi, con tutto il rispetto del Poggi Bonsi. Quindi io sono sinceramente contento del suo arrivo e non riesco a capire, sinceramente, quelli che si lamentano dicendo ma è soltanto una scommessa, poi la perdiamo sicuro. Io so che ci brucia molto ancora tutte le scommesse perse negli ultimi quattro anni. Lo so e vi capisco. Però cerchiamo ogni volta che il Parma fa un acquisto di cercare in maniera, diciamo, oggettiva e non soggettiva di commentare questo acquisto. Partipilo è un giocatore esperto della Serie B e quindi è per forza un giocatore che all'inizio del campionato è un buon acquisto. Stesso discorso vale per Begic, che è un giocatore che ha già segnato e giocato un anno in Italia, quindi già conosce, per così dire, la difficoltà dei nostri campionati, del nostro tipo di calcio e ha già fatto bene. Però è un giocatore che non lo prendiamo per fare il titolare, ma per crescere e vedremo che cosa farà in seguito. Kolac invece è appunto l'incognita, semplicemente perché non lo conosciamo e non ha mai giocato in Italia, però l'anno scorso, ragazzi, ricordiamoci, che ha giocato in Champions. Io, ripeto, non mi posso lamentare all'inizio di un acquisto di un giocatore che giocava in Champions League e segnava in Champions League l'anno scorso. Non posso assolutamente lamentarmi di questo acquisto. Per cui vedremo che cosa accadrà in futuro. Speriamo, incrociamo le dita, speriamo che Parma poi intervenga acquistando anche un difensore centrale che serve come il pane. Vedremo se andrà via Pezzella, perché altrimenti il difensore sinistro ce lo abbiamo già in casa. Hernani va a giocare, diciamo, a centrocampo, quindi sarà lui il centrocampista in più del Parma della prossima stagione. Visto l'uscita comunque di Vasquez sulla tre quarti, se la giocheranno un po' lui, un po' vedremo Somm se resterà, un po' anche Bernabè. E niente, vediamo come proseguirà questo calciomercato che comunque per il momento mi sembra tutto sommato decente. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, io sto cercando di organizzare una live di Parma Camp Pass tra o stasera e domani, o più probabilmente domani, così da poterne parlare anche con gli altri di questi tre acquisti del Parma Calcio. Cosa ne pensate voi di questi nomi? Fatemelo sapere in un commento qui sotto. Un saluto. Ciao a Papibus e sempre Forza Parma.